In questa edizione abbiamo presentato novità dal punto di vista del controller con una piattaforma di ultima generazione, compatta, senza rack e che darà sicuramente stimoli al mercato di costruire di macchine. Dal punto di vista del motion abbiamo presentato la nuova serie A5B con bassa EtherCAT e questa sarà presto integrata nella piattaforma controller e poi una serie di altre novità dal punto di vista del sensing anche in rete sempre su base a EtherCAT con la fibra e con il sensore di pressione laser. Il riferimento per noi sono i costruzioni di macchine in particolare sotto le packaging, macchine utensili e l'assemblaggio nel suo insieme. Il risultato delle altre giorni è stato sicuramente molto interessante per il numero, in netta crescita e per la qualità. Adesso dobbiamo sicuramente verificarla, ma l'impressione è ottima e centrando quelli che sono i nostri target. L'organizzazione dell'evento è stata puntuale come negli ultimi tre anni. I contenuti sono stati ricchi, bella l'esperienza con i sistemi integrator, interessanti, le tavole rotonde con partecipazione viva, numerica e anche di dibattito. Abbiamo contribuito anche a Pazzazzoni, contribuito con una sua memoria nell'ambito dei tool engineering per il motion e ci ha fatto piacere l'interesse che abbiamo potuto riscontrare nel dibattito.